La mozione trova accoglimento, un piccolo passo per Rete Veneta, un grande passo per il salvataggio di Palazzo Tiene. Il colpo di scena si consuma in Consiglio Comunale a Vicenza, dove passa la mozione firmata da Liliana Zaltrona, che mira a portare all'interno del patrimonio cittadino il Palazzo Palladiano con i suoi tesori rinascimentali. Una nostra proposta accolta immediatamente dal Movimento 5 Stelle e dalle altre forze politiche cittadine di destra e di sinistra, che hanno mantenuto la parola e hanno promosso la mozione. Bocciata invece quella di Claudio Cicero, che voleva destinare la sede di BPV di Via Battaglione Framerin al Comune per farne il nuovo municipio. Una bocciatura che ha mandato su tutte le furie il consigliere comunale di impegno a 360 gradi, che si chiede il perché di questa disparità di trattamento. Claudio Cicero protesta, chiede coerenza, vorrebbe che anche la sua mozione passasse per lo stesso motivo per cui viene promossa la mozione su Palazzo Tiene, per cui tra l'altro lui per primo vota a favore. In realtà, come abbiamo detto tante volte, Palazzo Tiene non ha un valore commerciale, perché il privato che avesse voglia e denaro per acquistarlo potrebbe farci solo un museo. Ecco la differenza con la sede di Via Battaglione Framerin. Insomma, oggi Palazzo Tiene è un po' più salvo. Un altro passo è stato fatto, ma noi ovviamente non ci accontentiamo. La questione non finisce qui, ma continua.